Quale frase hai detto più spesso? Chi fa da sé fa per tre. Con la dolcezza si ottiene tutto, mi sacrifico per la causa. Questi sono i possibili tre motti dei tre distinti sottotipi dell'enneatipo 7. Sei benvenuta? Benvenuto, io sono Noemi Aspasia Marcialis, psicologa clinica e futura storica dell'arte e questo è un video di approfondimento sull'enneagramma. Se non conosci l'enneagramma, recupera almeno la descrizione dell'enneatipo 7, la descrizione del centro intellettuale perché l'enneatipo 7 è dentro i caratteri razionali e la descrizione dei sottotipi perché così saprai cos'è un sottotipo e poi torna qui. Con tutte le altre e tutti gli altri andiamo avanti. Cordy Pons, ex allievo di Claudio Naranco e specializzato in bioenergetica, colloca l'origine dell'enneatipo 7 nella fase finale dello sviluppo infantile. Siamo quindi sul finire del complesso di edipo che per le bambine si chiamerebbe complesso di lettere. Ebbene, in questo video userò soltanto il maschile perché questo è un carattere molto più diffuso tra le persone di genere maschile. La sua passione, il suo vizio è la gola e i tre distinti sottotipi si differenziano tra le altre cose per il modo in cui indirizzano la loro gola, indirizzano il loro desiderio spasmodico. Ebbene, il sottotipo conservativo in che situazione si è trovato? Il sottotipo conservativo si è trovato in una situazione in cui sentiva di non poter contare su nessuno dei due genitori. Partiamo dal presupposto che qui sempre abbiamo un eccesso di madre e una carenza di padre. L'alleanza con la madre è più forte, l'alleanza col genitore di sesso opposto è più forte, il padre o è poco presente o non è considerato un modello con il quale identificarsi. Nel caso del conservativo però evidentemente non trovava così affidabile neanche la madre pur avendola come alleata più stretta. Quindi che cosa si ripiega a fare questo bambino? Ricerca l'autosufficienza. Ecco il motto, chi fa da sé fa per tre. Che cosa deriva quindi a questo sottotipo? Quali caratteristiche ha un conservativo? Allora, è il meno empatico dei tre? è il più duro e soprattutto è un dissimulatore. Il suo soprannome è famiglia ma io preferisco clan, l'ho trovato su questo libro, il libro di Cusani. Mi piace clan perché dà un po' l'idea del gangster, del mafioso. Infatti la tendenza fondamentale nelle relazioni e nel modo di rapportarsi al mondo in generale è una tendenza strumentale. Coloro che sceglie come proprio clan, come propria famiglia sono funzionari al loro piacere. Se si accompagna sessualmente, eroticamente a qualcuno tendenzialmente trasforma questa persona solo in uno strumento di piacere. Meno empatici e più autoindulgenti verso di sé, la gola ha una declinazione molto materialistica. Devono sperimentare e possedere oggetti, automobili, vestiti, cibo. A un livello di alto nevroticismo iniziano a confondere le vere e proprie necessità, le autentiche necessità con i desideri. Un desiderio senza fine, sempre tutto spostato in avanti, ancora da conquistare, ancora da avere. Ma se sei bramoso, se hai una bramosia spasmodica e sei poco empatico e tendi a strumentalizzare gli altri, diventerai un truffatore. Questa è la peggiore deriva, no? Un ciarlatano, un truffatore. Un esempio a livello cinematografico di questo sottotipo dell'enna tipo 7 è il protagonista di Schindler List. Infatti vediamo che è dedito ai piaceri della vita, ai piaceri della carne e all'inizio ha una visione molto strumentale delle persone che lo circondano. Questo personaggio nel corso della storia ha un'evoluzione, diciamo raggiunge quella che possiamo considerare la maggiore evoluzione possibile per un enna tipo 7. Non ti dico di più nel caso tu non abbia ancora visto il film che è del 1993. Passiamo al sottotipo sessuale. Qui l'alleanza con la madre è assolutamente forte, ok? Questo bambino ha imparato che sorridere e divertire gli altri gli permette di avere maggiori vantaggi. Infatti il soprannome di questo sottotipo dell'enna tipo 7 è fascino. Perché affascina? Sono veramente dei grandi seduttori, sono molto piacevoli e quando si incontra quando si viene corteggiate da un uomo di questo calibro si sente magnificate perché ha un entusiasmo, una fantasia e quindi ti offre un rispecchiamento narcisistico fortissimo. Tu sei meravigliosa, tu sei piacevole e immagina e offre, è fantastica e poi pianifica e vivete delle esperienze piacevoli e meravigliose. Ma qual è il problema? Dei tre questo è il più insicuro e appena le cose si fanno un po' complicate abbandona la barca, abbandona la nave, ha una tendenza al tradimento e ha una tendenza a interrompere le relazioni appena si fanno più serie per ricominciare da capo. ti ricordi che nel video descrittivo ti avevo detto te la immagini la fedeltà da parte di un enna tipo come questo? Forse l'ideale sarebbe essere poliamoroso. Ecco siamo un po' in questo sottotipo qui. E quale può essere un esempio? Un esempio può essere il personaggio interpretato da Roberto Benigni nella vita è bella. Vi ricordate che pur di tenere alto l'umore del suo bambino e della sua sposa si inventa tutta una storia che mistifica il campo di concentramento, che lo trasforma, che lo magnifica. Questo è tipico dei sessuali, sono quelli che hanno il massimo della fantasia, il massimo dell'entusiasmo per la vita. E arriviamo al sottotipo sociale. Questo bambino che aveva un'alleanza più forte con la madre l'ha vista soffrire. Quindi ha aderito alla posizione della madre magari addirittura considerando il padre colpevole della sofferenza della mamma e ha pensato di sacrificarsi. Si è sacrificato per la madre per avere un posto nella famiglia, un posto di potere. Questo era funzionale ovviamente nella fase infantile dello sviluppo, però da adulto cosa succederà? Tenderà ad avere un io ideale, a mostrare questo io ideale, a magnificarsi nel gruppo sacrificandosi per il gruppo stesso. Cosa succederà però? Per esempio nella relazione di coppia gli cadrà la maschera perché non potrà essere, qui a Roma si dice, fare lo splendido tutto il tempo e a questo punto avrà dei comportamenti polarizzati. Passerà da essere entusiasta, ad essere triste, da farsi andare bene tutto, ad essere ipercritico. questo sarà un po' la polarizzazione perché vorrebbe trasmettere sistematicamente questo io ideale, però nell'intimità della coppia reggere sistematicamente questa tensione non è tanto facile. Adesso vi faccio l'esempio di un N-tipo 7 sotto tipo sociale, vi sarà tutto abbastanza chiaro. In questo libro Claudio Naranjo, saggi sulla psicologia degli N-tipi, propone come N-tipo 7 sotto tipo sociale San Francesco. Credo che sia tutto chiaro. Pur essendo un N-tipo 7, quindi dedito ai piaceri ed effettivamente nella prima parte della vita di Francesco lo vediamo, tuttavia si spoglia, sceglie la povertà, costituisce un gruppo di confratelli attorno a sé, si sacrifica, porta le pietre. Addirittura racconta, nel libro che vi ho appena citato, Naranjo racconta che una volta ha ceduto il suo posto in un rifugio a una mucca. Quindi questo è il livello di sacrificio di un N-tipo 7 sotto tipo sociale. Io ti ringrazio tantissimo di avermi ascoltata anche oggi fino a qui. Se ritieni che il video sia utile, lascia un like affinché si attivi. Il meccanismo di YouTube, l'algoritmo di YouTube, condividilo con le persone care e soprattutto entra a far parte della nostra comunità. Iscriviti al canale. Grazie, baci, benedizioni.